Volevo rivolgere un appello soprattutto all'amministrazione comunale perché su quella strada auto gli esprecciano a velocità elevate, troppo elevate per strada che è un centro abitato. Si tenga conto che lì ci sono scuole elementari, adesso sono state finite la ricostruzione della Maria Leventre, ci sono le scuole medie, quindi d'estate c'è un campo estivo di bambini e nonostante ciò quella strada viene scambiata per una pista automobilistica. Oltre alle velocità elevate, segnalo che sorpassano sulla striscia continua in prossimità degli incroci, già è successo qualche grave incidente, delle persone sono state investite mentre attraversavano le strisce pedonali che vengono sistematicamente disattese. Secondo me, ma secondo ogni persona di buon senso, la basterebbe con pochi interventi che sono, per esempio fare una rotatoria all'altezza dell'incrocio con via Manzoni, una rotatoria di quelle che costringano però gli automobilisti a rallentare potrebbe già essere sufficiente per evitare tantissimi incidenti o tantissimi pericoli che possono succedere tutti i giorni.